Ciao ragazzi, ciao a tutti riconosco che sto toccando un argomento che non può essere affrontato adeguatamente in pochi minuti il mio obiettivo oggi non è quello di dirvi tutto ciò che penso ma solo tracciare delle linee che vi faranno capire un po' le mie visioni sulla religione su queste cose qua perché non c'è tempo di trattare tutto voglio soltanto dire due parole perché mi avete chiesto davvero in tanti su Ask e anche da altre parti gente per lo più credo curiosa, i curiosoni che vogliono farsi i cazzi miei ecco intanto perché va detto che la fede secondo me dovrebbe essere una cosa prettamente privata una cosa che tu pensi e basta sono al contrario le persone che vanno in giro a imporre il loro credo su altri quindi è di certo una cosa che io evito di fare evito di farlo perché rompe i coglioni se una persona l'ha perso ogni un modo, cazzi sua, tieni tutto per te e non rompe le palle a me non me ne frega un cazzo, a te non dovrebbe fregare un cazzo ma se me lo chiedi io te lo dico, nel senso se ci devo fare un video lo faccio allora io sono diciamo ateo agnostico se non vedo non credo vedere non vuol dire ti appolo la bibbia, ti cito due cazzate vuol dire vedere cose realmente comprovate, concrete non è che però mille anni fa è successo questo e la bibbia riporta e si dice che nell'anno 02 sì non me ne frega una sega perché sono tutte stronzate che cazzo ne sai tu? c'eri tu a quegli anni? no non c'eri quindi basta finisce lì tu non puoi documentare da un libro depreso da chissà dove cioè tutto punta al fatto che Dio non esiste infatti secondo me non esiste, l'unica potenza del mondo siamo noi stessi che siamo riusciti ad evolvere con gli anni che ci ha portato a livello di diciamo, qual è la parola? di civiltà in cui siamo giunti in questo momento cioè è grazie a noi che adesso sto bevendo questa lemon soda che è un concentrato di limonata è proprio messa nella lattina di alluminio di metallo che è, sono ignorante, non sono a sega ma insomma questo prodotto è stato creato dall'essere umano non è che Dio si apre c'è il cielo e è cascata e sta lemon soda così per la via e io l'ho presa questa maglietta Is Gamer vedete queste magliette Is Gamer? non è che qui perché Dio me l'ha donato, perché è bellino no, una persona ha inventato il trattamento del tessuto il cui ha portato alla creazione della maglietta che a sua volta ha fatto il passo avanti di stamparci le immagini sopra ora questi sono discorsi proprio tirati fuori dalla tasca a caso eh, cioè questo video non è che io non sto a scrivere i video quindi parlo così a caso ma questi sono soltanti due esempi cioè questo bastone, questo bastone qui per infilare in culo qualcuno è stato craftato, per usare un termine minecraftiano dagli esseri umani, non è Dio cioè Dio qui, madonna ragazzi vogliamo chiudere il video in due parole vogliamo davvero riassumere tutto ciò che si potrebbe dire a riguardo perché potrei stare qui per ore e ore e ore a rompervi i coglioni in una maniera assurda ma guarda, lasciate che vi dico una cosa le persone tra virgolette credenti oppure senza virgolette credenti sono persone che temono di morire temono, proprio hanno paura, hanno una fifa di schiantare che non avete idea o forse avete idea se fate parte proprio di questa cerchia ampia cerchia forse la maggioranza delle persone spero di no ma se mi capite, mi capite in un senso, a chi ha paura di schiantare tendenzialmente diventa religioso ovvero, ah Dio, io ti lodo, ti prego, ti rispetto ma poi salvami dalla morte così vado in paradiso così, accanto a Padre Pio a guardarlo nel muso così ciao Padre Pio, come va? ciao Gesù Cristo, come va oggi? la gente ha strizza di morire non capiscono come gira il mondo come funziona la vita la vita funziona così lasciate che ve lo dico io ascoltami bene perchè questa è una lezione di vita molto profonda ricordatelo la vita è fatta di scelte e azioni e di creazione la tua se tu decidi di condurre una vita dove non fai un cazzo non parli con nessuno cioè magari sei un parassita della società non fai una sega niente dormi dalla mattina alla sera ti gratti le palle vai su internet a perdere tempo non fai una sega la tua vita sarà vuota e quando morirai diventerai merda come tutti soltanto con la differenza che non sarai ricordato da nessuno la gente praticamente quando ti seppelliranno nessuno andrà a piangere forse tua madre per un giorno o due ma finisce lì tu non sei niente sei solo merda non vale un cazzo tu puoi pregare benissimo tutti gli dei che vuoi tutte le lingue che ti pare ma non sarai ricordato da nessuno tu morirai a tutti gli effetti morto, secco mentre mentre, attenzione se tu durante la tua esistenza riesci a finalizzare a costruire fare qualcosa utile a qualcun altro in qualsiasi forma esso sia se tu fai del bene se tu cerchi di fare del bene essere una persona condurre una vita rispettosa nel confronto degli altri ma non soltanto cercare di magari creare qualcosa di utile fare qualcosa che serve alle persone sarai ricordato non si sa per quanto ma per un certo lasso di tempo sarai ricordato e riuscirai a sopravvivere oltre alla morte quello è il senso della vita costruire qualcosa e di conseguenza stare bene perché quando si conduce una vita il termine attivo non so se si addice una vita soddisfacente in termini di fare se tu fai le cose positive ti senti una persona realizzata il senso della vita è quella sia nell'ambito lavorativo che quello dell'amore e di tutto insomma la religione è solo una cosa per la gente che veramente non sa dove guardare conduce una vita vuota senza senso si alza la mattina non sa che cazzo fare non sa che cazzo fare lì su facebook che scorre così guarda le foto idiote così non fa una sega nulla magari arriva a 30 anni non ha combinato una sega con se stesso un cazzo poi che ne so a 40 anni prende una pensione di invalidità a 50 si gratta ancora un po' i coglioni e poi schianta e basta finisce lì non sarà mai ricordato da nessuno nessuno neanche sua madre si ricorderà di lui proprio mi blezzo proprio capito quindi se ci tenete a queste cose invece di pregare un dio che non esiste così grazie dell'aria che respiro grazie del sedile del cesso su cui appoggio il culo ogni sera quelle sono cose che ha portato soltanto la civiltà umana la scienza la scienza non la religione la religione porta solo male perdita di tempo perché la religione porta solo discordia male perdita di tempo perché se tu stai a pregare un dio che non c'è che non si offende se non preghi se stai lì a pregare fai è tempo perso in cui potresti fare qualcosa di più costruttivo qualsiasi cosa anche grattarti le palle andare a svoltare l'immondizia dare una pacca sulla spalla ad un amico aiutare qualcuno in famiglia fare un lavoretto qualsiasi cazzo di cosa pregare è una perdita di tempo è una perdita di tempo e se Dio stesso esistesse in cielo si incazzerebbe sicuramente se è un dio normale si incazzerebbe a vederti pregare inutilmente invece sarebbe fiero di te se facesti qualcosa di costruttivo se facesti che ne so qualcosa per aiutare qualcuno costruire qualcosa che piace alle persone se ti rimbocchi le maniche e fai qualcosa a Dio se esistesse così è ipoteticamente gli farebbe sicuramente più piacere rispetto a Dio io ti ringrazio per tutto ciò che mi aiutai ogni domenica ogni domenica in chiesa e poi non fai un cazzo perché io ho ringraziato Dio quindi è vero che si dice la fede si dimostra con le opere e non con le parole però cazzo vai in chiesa è pieno poi le gente si gratte i coglioni no io non voglio sentire scusi se tu conduci la vita da persona normale civile che fa lavora e tutto devi stare tranquillo devi solo stare tranquillo basta non serve a un cazzo credere a queste stronzate novelle della nonna per gente che ha paura di morire quando muori cioè arrivi a una certa età muori schianta lascia il posto per qualcun altro e tu l'hai fatto sei fatto del bene sarai ricordato giustamente le persone prenderanno da buon esempio quello che hai fatto se sei stato un pezzo di merda quello è sufficiente pena perché se hai rotto i coglioni nessuno ti ricorderà e basta se non sei servito a niente nessuno si ricorderà di te chiuso basta non esiste né inferno né paradiso basta chiuso chi la pensa diversamente chi la pensa diversamente non dico chi credere a Gesù Cristo è un conto io stesso ci credo perché è un personaggio storico ma non è un dio o qualcosa è semplicemente una persona buona che ha dato esempio a un po' di persone non ha fatto miracoli è semplicemente ha dato un buon esempio di come comportarsi e fare le cose basta lo può fare chiunque se si rimbocca le mani che lo fa lo può fare chiunque perché la gente non lo fa perché è pezzo di merda pensa solo a se stessa basta però cazzo il Cristo si è distinto proprio per non essere così ecco quindi non sto dicendo che non ci credo a quello perché quello è un personaggio storico secondo me perché ci sono è attestato da diverse cose ecco ma che c'entra con il super naturale cosa c'entra con il dio del cielo così che fa che se vuole ti fulmina ti manda in paradiso all'inferno chi crede al paradiso e all'inferno è un cretino un imbecille illuso illuso inculcato da queste dottrine veramente da scarafaggio schifoso mi fa girare i coglioni con questa campana qui che rompe i coglioni ogni domenica che tanto l'ora la sappiamo tutti cazzo c'è scritto sul computer l'orologio ogni cosa sul cellulare cazzo questa campana di merda la chiesa del madonna la messa della mia fava ma non ha motivo di esistere non ha motivo c'è tutta una finzione tutta gente che si fa vedere lì bellina che in realtà tutti a maledirsi l'un l'altro ma vai a cacare finti come come dio caro i capelli di berlusconi veramente non è possibile non è possibile siamo nel 2013 quasi 14 ancora la gente la religione l'islam cristianesimo cattolicesimo buddha di merda tutto merda e tutto da prima all'ultimo roba inutile per perdere tempo per perdere tempo se ti sei una persona come si deve lo dimostri non dici perché Gesù perché no tu stai la bocca zitta e fai e fai e stanno gli altri a dire guarda com'è bravo quello guarda com'è gentile quello guarda quante cose buone ha fatto quell'altro lo dirà la gente non lo dirà né Cristo né nessuno basta e se sei talmente bravo ti faranno forse anche una statua e se la fanno dicano la meriti basta chiuso religione zero scordatevelo a scuola insegnare certe cose è offensivo non so che altro dire è la gente tra chi sei tu per dire certe cose allora te dimostrami che ho torto e mi rimangio ciò che dico intanto abbiamo la scienza che dimostra nero su bianco le teorie nero su bianco le dimostra le teorie dell'evoluzione di perché il sasso ti ammazza se lo becchi in capo con la forza perché il bastone pre l'acqua che cade qui entra dentro il legno l'acqua le nuvole la scienza spiega tutto perché la merda cade dritta nel cesso anziché usciti dalla bocca la scienza spiega la bibbia niente una sega nulla sono dei racconti un insieme di racconti antichi che non sappiamo neanche quante volte sono state manomesse ma vai affanculo te il libro di merda va bene non me ne frega un cazzo se ti ho offeso sei un cretino sei un cretino ma io il mio credo religioso il tuo credo religioso fa ridere è come se io dico eh io credo in Crusty the Clown che è lì nel cielo Crusty the Clown che ride mi guarda mi manda all'inferno eh Zepp ma sei un cretino eh no non puoi dire che sono un cretino è un credo religioso no sei un cretino e basta finisce lì manca la gente che si definisce cristiana che non non crede nel potere del papa della chiesa sempre lo stesso discorso se volete fare opere di bene fatele ma non state lì a pregare a perdere tempo perché non serva un cazzo basta alzate il culo alzate il culo che tanto si muoiono tutti eh anche il politico più più ricco del mondo schianta tutti proprio madonna da prima all'ultimo vanno sotto terra alla fine dei conti quindi non è che hai tu l'esclusiva quindi se te non so vivi in una famiglia cattolica così non per questo devi farti finocchiare non per questo devi star lì a sorbirte le cose se loro vogliono che fai il battesimo la cresima e se tu non la vuoi fare non la fai non la fai dici no e se ti credo come mai dici a me non ci credo non ci credo che sono strozzate come sono strozzate si sono strozzate ma guarda che vai all'inferno io non ci credo all'inferno perché tanto quando schianti schianti e basta dovete rispondere così se ve lo sentite di dirlo dentro di voi se vi sentite di una cosa ditela non state lì a dire va bene mamma la cresima il battesimo cosa vuoi battezzare che dai soldi alla chiesa di merda o comunque anche se è gratis non serve a un cazzo perdete un pomeriggio fate prima di andare in campagna a raccogliere le more dio caro guarda qualsiasi cosa grattarvi le palle di traverso con una forchetta sarebbe più edificante che fare quello non so guarda no no non è per infamare o niente è un dato di fatto perché tanto pregare siccome non serve a un cazzo io non so probabilmente in questo video magari anche senza rendermene conto sono stato offensivo però sono cose che penso realmente cioè del fatto che queste cose siano inutili è una cosa guarda che penso realmente cazzo cioè sei una vergogna sei religioso in questo modo per non parlare dell'islam perché l'islam è una cosa cioè lì proprio siamo a dei livelli che cioè se non la pensi come loro secondo loro devi morire o ti converti o muori devi morire cioè ti si fanno proprio esplodere non è che cioè lì siamo a livelli estremi però anche il papa guarda il papa e la chiesa è una cosa che praticamente la chiesa è il contrario della dottrina che vorrebbero insegnare cioè non è che loro insegnano una cosa e sono non diversi il contrario uno che che ruba che ti dice di non rubare allora scusa comincia tu che cazzo ti devo dire chi va in chiesa guardami guardami se tu vai in chiesa sei un pezzo di merda coglione scarto della società merdoso sei merdoso se vai in chiesa non me ne frega se credi non me ne frega se non hai mai fatto nulla di male non me ne frega se non hai mai rubato non c'è andare in chiesa ma non sono tutti così la chiesa in sé quello che rappresenta essere lì proprio dagli approvazioni vuol dire essere merdosi perché ci sono più oro sui vescovi e sui cardinali che nelle banche guarda hai capito il discorso il ragionamento mio cazzo la croce d'oro del papa vale di ocario più di casa tua hai capito il discorso mio qual è quella croce d'oro non lo darebbe mai all'africane affamati della nigeria hai capito il mio discorso quindi non veni a rompermi i coglioni a fare la morale a me pezzo di merda va bene te e i tuoi genitori pezzi di merda altrettanto come te che ti portano in chiesa così come una mariometta ma vai affanculo te e tutta la tua stirpe di merda da estinguere proprio Dio anche la bestemmia non ha senso la bestemmia perché la bestemmia Dio non c'è quindi anche se Dio non ha senso la gente ne attribuisce un senso comico perché Dio fa ridere a chi magari si diverte ma non ha senso Dio non c'è Dio non esiste non esiste proprio non esiste e se esiste qualche forza non è che si offende se dice Dio perché non non è è una forza superiore una forza così grande se dovesse esistere non ne fregherebbe un cazzo se lo infame perché ci ride sopra come dire Zeb merda la stessa cosa Zeb torsolo vai far ridere sì ok Dio la stessa cosa se ti sei offeso sei un cretino sei un cretino non c'è nulla di cui offendersi non c'è nulla di cui offendersi basta chiuso è ridicolo io la gente veramente siamo nell'età della pietra è l'ora di modernizzare le cose di andare avanti abbattere le chiese e costruire scuole abbattere le chiese le moschee farci non so piscine qualsiasi cazzo di cosa che non sia quello perché spazio è tempo perso ok ogni masso ogni sasso che compone la chiesa è sprecata è sprecata ogni secondo lì cantiamone ma vai a cacare sono tutto il tempo buttate nel water tempo che non avrete mai indietro della vostra vita attenzione una parentesi anche sui testi di morire di Geova secondo loro veramente Geova è il loro dio che sarebbe il loro dio se tu fai qualcosa se tu giochi con un giocattolo strano vai all'inferno cioè non è che mori cioè mori per sempre sei recuperabile secondo loro cioè tu secondo loro c'è un dio in cielo un dio così che ha creato il tutto onipotente onissapiente così misericordioso che se un bambino gioca con mago berlino e more non è che viene ma more basta lo cancella dall'esistenza perché un dio stronzo proprio allora deve essere se dio è così grande secondo voi farebbe una cosa del genere secondo i testimoni di Geova è così no non lo farebbe mai basta devo andare perché mi è scaduto il tempo della scheda sd ci vediamo alla prossima si sono incazzato grazie a tutti Grazie a tutti